Dopo tre mesi di stop per il lockdown, riapre a Firenze Palazzo Pitti con una mossa sulla pittrice barocca Giovanna Garzoni. Circa cento le opere esposte tra dipinti, miniature su pergamena e disegni, oltre ad un grande paliotto a tema floreale di oltre 4 metri di lunghezza. Fiori, piante e conchiglie esotiche, strani insetti, animali dall'espressività quasi umana, sono questi i protagonisti dell'arte di Giovanna Garzoni. Fantasiosa, curiosissima, originaria di Ascoli Piceno dove nacque intorno al 1600, aveva uno spiccato amore per i viaggi che la resero una delle pittrici più colte e cosmopolite della sua epoca. Vissi alle corti di Venezia, a Torino, fu lungo a Firenze con i medici, quindi a Napoli, in Francia, dove realizzò il ritratto del cardinale Richelieu, e persino in Inghilterra alla corte di Carlo I. Giovanna Garzoni riuscì da sola, tramite un'intelligente politica di autopromozione e una spiccata flessibilità nel muoversi tra le corti italiane ed europee, a farsi valere e a creare, nel genere della natura morta, un linguaggio originale e profondamente poetico. Palazzo Pitti riapre con la prima grande mostra monografica dedicata a Giovanna Garzoni, pittrice importantissima del 600, amica di Artemisia Gentileschi, con la quale dipinse anche insieme per comitenti importanti di tutta l'Italia, ma anche tutta l'Europa originaria delle Marche, era attiva a Venezia, a Roma, a Napoli, però viaggiò fino a Londra ed era specialmente interessata nella resa dolce e precisa al contempo della natura degli oggetti e in particolare degli oggetti di lusso che in quel momento venivano importati fin dalla Cina. Per questo motivo abbiamo abbinati nella mostra le raffigurazioni della petrice, come la famosa canina con il biscotto, ma anche con delle ciotole cinesi, insieme agli oggetti che sono conservati normalmente nei depositi del tesoro dei Granducchi.